Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in passato, trovate qui in alto la recensione. La prima maglia del Bayern Monaco per la stagione 22-23, questa volta in versione player. Il ritorno al rosso brillante è combinato con un look moderno a righe di diverso spessore, che insieme ai dettagli bianchi su colletto e maniche conferiscono alla maglia un tocco classico e sobrio. Il retro della maglia, sul quale è assente il motivo a righe, come da tradizione riporta il motto del club Mia San Mia all'altezza della nuca. Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati ed è solo uno delle soluzioni di Addas per la lotta contro l'inquinamento causato da rifiuti plastici. Vi ricordo che la maglia Authentic è la maglia indossata in campo dai giocatori. A differenza della versione Fan, ha una vestibilità più ridotta. Bella, vero? Nella mia classifica questa prende 4 stelle e mi piace molto questa rifinitura in bianco, queste righe di diverso spessore e devo dire che la maglia è fatta veramente molto bene con una bella vestibilità. Qui in alto vedete il costo? Che dire che aggiungere un costo molto vantaggioso, quasi incredibile che una maglia fatta così bene si trovi soltanto a questo prezzo. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate sul sito a vedere le promozioni in corso e quali occasioni vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.